Ci deve essere un buon motivo, perché non è mica possibile, sennò cosa porto la maniara a tutti, non è mica possibile. Vabbè, allora, vediamo un po' se abbiamo messo un po' qua. Allora, avrei un messaggio per la numero 22. Ragazzi, chi è la numero 22? Eh, insomma, ragazzi, questi singoli hanno dieci decine. Ciao, 22, how are you? Come stai? Come hanno fatto a vedere l'ultima? Questi hanno gli occhi proprio in foco a vita. Come ti chiami? Roberta. Roberta, wow. Roberta, come la bionda, ma io lo faccio. Ma io lo faccio vicino a me. Sì.